Musica Nasce una commissione per la certificazione dei contratti di lavoro. Il nuovo organismo viene istituito da Ebi Informa, l'ente bilaterale costituito il 5 luglio del 2017 da un'impresa e confintesa. Si tratta della Commissione per la certificazione dei contratti di lavoro, prevista dal Decreto Legislativo 276 del 10 settembre 2003. Secondo il provvedimento del 2003, articolo 75, la commissione può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro, quindi qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato e autonomo, ma anche contratti di appalto, di somministrazione di agenzia, rappresentazione e commerciale. Inoltre possono formare oggetto di certificazione i regolamenti interni di cooperative. La certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto o anche successivamente nel corso della sua esecuzione per eventuali modifiche. A presiedere la Commissione è stato chiamato Alberto Polini, avvocato romano, gius lavorista e cassazionista, con una lunga esperienza anche internazionale. Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri. Polini, secondo l'accordo tra le due organizzazioni di categoria, è stato designato da un'impresa, cui spetta anche l'indicazione di due componenti dello stesso Consiglio Direttivo. Altri due componenti, insieme con un vicepresidente, vengono invece scelti da confintesa. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS